Libra male il passaggio in avanti, il campo è molto pesante ed è difficile per entrambe le squadre, è un po' meno difficile per Maradona, vedete, andar via, Maradona e viene stretto da Favero. E Cabrini... Pecci sta per toccare il pallone per Maradona, mentre siamo al ventisesimo minuto, ecco Pecci, Maradona che azzecca l'angolo alto, proprio l'incrocio dei pali, alla sinistra di Tacconi e porta in vantaggio il 26esimo minuto della ripresa, gol di Maradona. E' il quinto successo in campionato per l'asso argentino del Napoli. Lo rivediamo... Ad effetto precisissimo, proprio all'incrocio dei pali. Non c'era proprio niente da fare per il portiere della Juntus.